Ciao ragazzi, buongiorno, oggi è Pasquette, infatti tantissimi auguri e sto preparando la colazione, visto che oggi non c'è scuola per le bambine e per me e mio marito non c'è lavoro infatti guardate che buona colazione che sto preparando ovviamente tutte cose comprate al chiedere, vabbè infatti il frigo praticamente è pieno, proprio pieno e oggi veramente sarà una colazione bellissima allora, io metto caffè con un po' di caramello quindi ok ragazzi mi sono appoggiata qua perché è a terra diciamo che non è tanto ok e vado ad aggiungere il caramello questo è il mio posto quindi vabbè lo tengo in mano beh ve lo metto qua dai ok mia figlia più grande vuole latte e caramello ah sì, voglio anche io un po' di latte visto che non mi piace tantissimo quindi vado a mettere il latte ok molto semplice il mio marito ho latte e caffè la mia figlia più piccola comunque è il latte visto che comunque è piccolina o il succo e il latte ma comunque ok ecco qua allora ora posso tutto quanto nel frigo infatti a me stamattina piace un sacco la colazione di oggi ecco qua ed ecco qua ora devo andare a chiamarli che sono ancora dormendo e sono le nove del mattino eccomi qua tesoro svegliati buongiorno ciao ragazzi dai che ho preparato una colazione veramente buonissima vai a vedere giù ok mentre le dovevo vedere io sveglio le piccole tesoro sveglia buongiorno mamma ciao ragazzi buongiorno tanti auguri di buona pasquetta ah vero tuo padre non li ha dati però sicuramente li darà dai che giù ho preparato una colazione buonissima amore sveglia buon anno mamma buongiorno amore eccoci qua c'è te quattro eccoci qua oddio mamma è bellissima grazie bellissima io adoro quando la tavola è piena così c'è tanta roba da mangiare guarda lo sapevo ti ho sconnetto buongiorno buongiorno ok ora sedetevi dai che iniziamo a mangiare mamma questa dovrebbe essere la mia tazza sì sì amore questa tazza è la mia e questa è tua ok iniziamo a mangiare allora io no non voglio il connetto buono connetto mamma ma te ammellata certo tesoro quale vuoi eh tua flagola anti no no non lo tocco ti voglio ti dammi quella flagola ok sei sicura ti don ti cula dai ecco qua buono mamma io ho pomato come ti chiamo mamma mellata top perché tu è brutto ok dai iniziamo a mangiare io voglio il cornetto sì senza niente non so perché io voglio anche il cornetto anche io dai ok allora questi li lasciamo per domani io gli metto un po' di marmellata di martigli tanto buonissimo e niente ragazzi non finiamo la colazione ci vediamo dopo ok ragazzi abbiamo finito aspettate ok e questo ora lo metto a lavare questa non lo so dove metterli in verità però vabbè ok allora ah sì comunque questo va anche buttato tanto è grande ormai Grace cioè perciò quindi penso che lo regaleremo perché abbiamo una vicina che ha una figlia piccolina quindi per non farglielo comprare se non l'ha già comprato gli diamo il nostro tanto ti ma infatti ti sono grande ok infatti l'ha detto pure lei vabbè comunque dopo la chiamo glielo dico perché occupa solamente spazio tanto è grande cioè si è fatta un pochino più grande non è che è grande vabbè io poso queste cose non lo so dove ma infatti può sale qua tanto lo regaliamo questo l'ho lavato e lo metto qua e lo metto su qua ok fatto questo vabbè io lo porto vabbè io mi vado a cambiare almeno glielo do perché cioè ok vabbè io vado un po' in salotto guarda guarda non c'era dubbio ok ragazzi sono venuta qua io metto questo tanto l'ho messo non lo so se metto questo o un altro però vabbè guarda metto questo dai ok ora mi trucco un po' anzi mi vado a lavare dai ok sì vedete ma questa è banna di tua figlia e di l'altra tua figlia e lo so ma ormai ci sono abituata a venire quando quindi io lo faccio questa crema ok spazzo un po' capelli ok metto un po' di profumo che è mio in verità questo qua ma se lo è un po' che i miei figli infatti lo vado a mettere su questa camera mamma ma è mio tesoro tu ce ne hai tantissimi questo sarebbe il mio uffa mamma uffa mamma vabbè comunque ecco qua allora ok mi vado a truccare con cose veramente tanto 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 quindi non mi vado a truccare con chissà che cosa però con cose così vado a prendere il pennello piccolino eccolo così vabbè questo qua vado a mettere questo marroncino cioè vado a mettere questo marroncino più chiaro qua e poi per la sfumatura vado a mettere quest'altro però all'estremità ok fatto ora la poso poso questo e metto non lo so allora i pennelli li poso un attimo e appunto prendo questo qua che è quello che mi serve appunto ok e vado a prendere il tipo la terra ecco vado a mettere così però non esagero perché comunque sapete no cioè a me la terra si vede molto e vado a mettere questo rossetto nude ok fatto vado a mettere gli occhiali così l'ho fatto ok ragazzi ora la chiamo un attimo con il telefono il mio marito tanto comunque sa che sono sempre io quando sto dal telefono il mio marito quindi vado ok pronto ciao Rosa come stai no no ti volevo dire visto che comunque hai tua figlia più piccolina che gli serve un seno dove si mette l'artero riscaldio che è quel laggeggio che ora non so tanto come si chiama io ce l'ho a mia figlia non gli serve più perciò se lo vuoi puoi anche venire non lo so fuori casa mi te lo do ok ok allora vieni va bene ok ciao ciao prego prego non ti preoccupare ciao ciao ok tanto ce l'ho qua lo ripeto non gli serve non è che gli sto dando comunque si qua stanno ancora le buste ma vabbè ora aspettiamo eccomi qui oh eccola ciao rosa come stai ciao marica si si bene tu bene bene no ti volevo dare questo perché veramente mia figlia grazie veramente sto dicendo mia figlia cioè non lo usa più perché ormai comunque beve nella tazza non fa niente cioè te lo puoi prendere veramente quando vuoi come vuoi tieni tieni grazie mille grazie poi puoi venire pure a casa mia ti faccio non lo so puoi portare pure le tue figlie lo so perché io sai no come ho una figlia grande quanto è tua figlia è una figlia neonata comunque è nata da circa tre mesi ecco perciò è infatti infatti vabbè ti verrò a trovare ok ciao ciao grazie mille ciao ciao ok ragazzi ora però cioè ci vediamo stasera a un po' ora di cena ciao andiamo dopo allora ragazzi io sto così da praticamente stamattina da quando ho registrato l'ultimo clip e dobbiamo scendere perché visto che è pasquetta facciamo la serata in un ristorante ma non abbiamo ancora capito quale ristorante ma penso un ristorante di pesce quindi vedremo comunque ora vado a dire a mio marito che si deve vestire anche le mie due figlie anche se già lo sanno però non si non si vestono quindi tesoro comunque dobbiamo sempre uscire a cena eh quindi sbrigatevi che abbiamo fatto anche tardi eh amore amore pure tu tesoro dai amore mio aspetta che ci vestiamo insieme ma dove ci possiamo andare eh amore dobbiamo scendere dobbiamo andare al ristorante ma anzi di questo qua bellissima ecco qua dai tesoro dai sì un attimo mamma ora mi vesto ma è elegante o sportiva tesoro elegante mi sembra ovvio ok allora metto il mio vestitino cioè non lo so quale amore tu due vestitini cioè hai un sacco di vestitini provateli non so vedi quello che ti sta meglio non lo so amore vedi tu sì sì mamma non ti preoccupare ok io tengo la torre luna sì aiutala dai comunque sì io sono struccata in pratica ho solamente il mascara di stamattina ma mi devo ripassare il trucco perché alla fine comunque mi sono struccata ma comunque sempre mi devo vestire quindi non so cosa mi devo mettere però se andiamo sull'elegante metto questo ecco proprio così io invece l'elegante non lo so però io non sono molto sull'elegante quindi metto questo va bene dai lo apprezzo almeno metto il profumo poi no vabbè mi trucco sul rosino ora quindi aspettate allora ragazzi ho fatto devo mettere solamente il rossetto e il e la terra come lo potessi chiamare non lo so e il rossetto mi metto quello di stamattina cioè in pratica mi sono truccata come stamattina basta cioè mi potevo pure rimanere il trucco però ok ecco qui fatto allora mia figlia devo ancora andare a vedere cosa si è messa se si è messa qualcosa comunque penso di andare a mettere la vascia però non lo so mamma io ho fatto ok benissimo amore allora quale borsa vuoi? eh mamma una che ritocca sul rosa però ok allora amore mettiti questa qua aspetta questa vuoi? si mamma ormai le mie borse sono diventate anche le sue ok io vabbè vado a mettere sempre questa almeno è più capiente più grande e mi vado a portare anche gli occhiali così oddio allora ragazzi vorrei mettere la fascia solo che non lo so non lo so non lo so ora vedo allora consigliatemi metto così o metto così va bene mi porto la fascia raga me la porto ma non so come portarmela ecco perciò non lo so non lo so metto tutte e due me la porto così cioè raga non ce la posso fare non so come devo fare andiamo dai sì Non ho tempo comunque di andarla a prendere Perché già è tardissimo Eh infatti Ma non ci posso fare niente Se devo sprecare Se spreco tempo Comunque per vestirmi, truccarmi Non ci posso fare niente Siamo così noi donne Ci dovete apprezzare così Ok ragazzi siamo arrivate Siamo arrivati E Cioè siamo appunto venuti in un ristorante Di pesce come l'ho già detto Perché ci sembra il più economico Quindi andiamo Salve Salve mi dica Vorrei prenotare A parte un tavolo di quattro Quindi Tavolo con quattro persone ecco Sì sì allora Le faccio vedere quali sono i tavoli Comunque quelli Che sono rimasti con appunto quattro Che potete Eserci tutti e quattro Allora questo E poi Questo qua Tra poco se ne andranno Quindi Però comunque Questo è libero Quindi Prendete questo Se siete in quattro Sì sì ok ok Dobbiamo aspettare per ordinare Eh sì sì Perché ci sono anche altre persone fuori Che comunque Devono ordinare Stanno venendo Hanno preso già l'appuntamento Quindi Sì Ok ok Allora sedetevi Aspettiamo Ok eccoci qua Allora Cosa volete ordinare Allora Per me Non lo so Frittura di Frittura Basta Fate Quello che È più Scelto In questo ristorante Per frittura Sì sì ok ok Per lei Per me Anche per me Frittura Io Cotoletta Con Con Non lo so Cotoletto Vabbè Voglio Cotoletta Ok piccola Lei signorina Anche per me Cotoletta Grazie Ah no Mi scusi A me Mi potreste fare Sì sì A me Mi potreste fare Un panino Con Non so Tipo una Ah sì Quello che ha visto Invece Sì sì ok Ok ho capito Ho capito Ok grazie Non so Non so bene Come si chiami Sì ok ok Va bene Arriva subito Grazie Ecco qui Il cibo Per le Bambine Ecco a te Piccolina Ecco a te Signorina Grazie mille Gatte Prego prego Ora arriva anche Per voi Solamente che Per loro Comunque è stato Molto più semplice Per farle Invece per voi Ci vuole un po' Più di tempo Sì sì Ok Ecco qui Per voi Allora Qual era Il panino Con Così Mio mio Ok Ecco per lei Ok grazie Grazie mille Quando avete fatto Venite a pagare Ok Sì sì Certo Certo Ragazzi Assaggiamo Questo ristorante Mi sembra già bello Poi vediamo Il cibo Come lo fanno Buonissimo Buonissimo Veramente Buonissimo La borsa Comunque l'appoggio qua Anche io mamma Vediamo questo Che mi sembra Veramente buono Cioè Già dall'aspetto È buonissimo Buonissimo Vero Concordo con mia sorella È veramente buono Allora Io devo dire la verità Questo ristorante È veramente A parte economico Perché mi hanno detto Che i prezzi qua Sono veramente economici Poi Perché Cioè Il cibo Veramente Wow Cioè Spettacolare Ehi Mi scusi Sì sì Abbiamo finito I piatti Dobbiamo andare a te Oppure Non lo so No no Non vi preoccupate Metteteli qua sul tavolo Poi dopo Quando Venite a pagare Dopo Li pulisco io Cioè Li prendo io Ah ok ok Grazie Prego prego Ok Amore La borsa Sì sì Eccoci Eccoci Ok In tutto Sono Fatemi un attimo Vedere Ok Sono 20 euro Ok Tenga Buona giornata Anzi E buona Pasquetta Grazie anche a lei Ciao ciao Raga ma È veramente Un sacco economico Cioè 20 euro Per Tutte queste cose Cioè Oddio Voi direte ma no È tantissimo Ma invece No Cioè Non ci sta Per 20 euro Tipo per 30 Ma che Comunque sono veramente Tanto tanto Felice Praticamente Oh mamma Guarda Amore Non ti sporcare Dai che Cioè Andiamo dai Dai mamma Ma è bellissima Certo lo so amore Io amo gli animali Ma dai Comunque ragazzi Noi andiamo a casa Buona Pasquetta a tutti E niente Ciao ciao Andiamo tesoro Togli sta roba Andiamo dai Mamma Sei sempre tu Ciao Ciao